Per la persona l'ha subito, per la persona l'ha subito. Per la persona l'ha subito, per la persona l'ha subito. Per la persona l'ha subito, per la persona l'ha subito, per la persona l'ha subito. Per la persona l'ha subito, per la persona l'ha subito. Per la persona l'ha subito, per la persona l'ha subito. Per la persona l'ha subito, per la persona l'ha subito. Per la persona l'ha subito, per la persona l'ha subito. Per la persona l'ha subito, per la persona l'ha subito.